Il fascismo, la costrinse dentro le gabbie di uno Stato oppressivo e totalitario, la Repubblica che ha ridato libertà e respiro. La solidarietà, la centralità della persona, la crescita del lavoro come misura di dignità per ogni donna e ogni uomo, valori che ne sono alla base alimentano la democrazia e hanno trovato nella Costituzione riconoscimento esplicito. È un'esigenza che va sempre avvertita, anche nelle condizioni inedite di un tempo che registra cambiamenti così veloci. La storia è parte di noi. Ciascuno di noi, come persona, di noi come comunità, è alle fondamenta della nostra cultura, dei nostri ordinamenti, dei valori in cui ci conosciamo e che costituiscono l'asse portante della società contemporanea. La libertà di cui godiamo, la democrazia che è stata costruita, l'uguaglianza e la giustizia che la Costituzione ci prescrive di ricercare, sono figlie di una storia sofferta e di generazioni che le hanno conquistate con dolore, con sacrificio, con impegno, consegnandole alla nostra cura, affinché possiamo a nostra volta trasmetterne il testimone. È una lezione, quella di allora, di coraggio, di fiducia e la coscienza di essere parte di una storia che continua, consapevole anche dei momenti più oscuri e indegni vissuti e del loro superamento.